buongiorno buongiorno oggi la giornata parlamentare alla camera è particolarmente interessante una giornata diciamo molto camera diciamo così camera e senato hanno due stili diversi e vabbè non non mi intrattengo in questo sto prendendo appunti per un testo che necessariamente dovrà aspettare la fine della mia esperienza per essere scritto perché diciamo potrebbe contenere delle cose che potrebbero essere interpretate male ma esiste comunque anche un'antropologia parlamentare che è interessante che si interseca poi con le dinamiche dei media generando tanto rumore intorno a poco segnale insomma nel rapporto esiste anche questo quindi è la giornata in cui così diciamo nelle categorie del mio blog la camera è più diciamo ma lo dicono tutti eh lo dicono i giornalisti lo si sa è un pochino più gesto eclatantista quindi oggi abbiamo ben due emozioni di sfiducia attraverso ben due ministri e quindi sarà l'accesso dibattito ci saranno i tumulti ci saranno tutte queste cose molto divertenti mentre le cose che come sapete sono noiose tant'è vero che parlandone sono riuscito ad avere uno dei blog più più letti d'italia finché è stato uno dei blog più scritti d'italia sono i numeri i numeri sono noiosissimi anche perché come dire hanno questa caratteristica di essere l'antimateria del folklore nel momento in cui si arriverà ai numeri la maggioranza voterà e sarà maggiore della minoranza detto così sembra stupido ma ma la cosa non è molto più intelligente di così però è giusto anche naturalmente che le voci critiche si esprimano non è perché la maggioranza è in sopravvento che le osservazioni della minoranza non debbano essere ascoltate o espresse certo se tutto il racconto tenesse conto della realtà dei fatti forse riuscirebbe anche a farsi ascoltare meglio e forse riuscirebbe anche a essere più produttivo questo vale per tante cose vale in particolare per la prima cosa dalla quale partiamo oggi che è invece l'audizione del ministro Giorgetti nel quadro di un'indagine conoscitiva che viene fatta sul tema delle regole europee voi sapete benissimo quale è la situazione a un certo punto sul tavolo europeo c'erano due cose questa proposta di regole e la riforma del messo la riforma del messo è stata fermata la cosiddetta riforma delle regole no l'accusa di quelli che hanno schienato il paese nella stagione post 2000 post 2011 è a ma voi avete imposto l'austerità al paese quindi queste regole sono peggiori di quelle di prima eccetera 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 allora qui io metterei la cosa su 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 questo piano se permettete il tempo di arrivare in aula due rapidissime riflessioni nel senso che la situazione al tempo stesso molto peggiore e molto migliore di come la racconta l'opposizione ma l'opposizione non capisce né perché è molto peggiore né perché è molto migliore cominciamo dal molto peggiore decidere con la testa di una persona di sinistra in particolare che è una testa che funziona però funziona in un certo modo in modo sinistro se le attuali regole in discussione che devono ancora passare tutta una serie di massaggi perdonate il visticcio formali per diventare effettivamente pienamente operative decidere che le attuali regole siano peggiori delle precedenti è un pochino come stabilire ad occhio se Sirio è più vicino o più lontana di Vega sono due nel senso che purtroppo è l'idea stessa di una governance basata su regole che è così sideralmente distante dal buonsenso dall'efficienza che decidere a distanze siderali chi hanno luce più hanno luce meno è un esercizio sostanzialmente futile cioè il problema come ho detto più volte le regole sono il problema dell'Europa nel senso che ne sono al tempo stesso il sintomo e la causa le regole sono un sintomo del problema dell'Europa perché esistono in quanto i paesi europei non si fidano gli uni degli altri in particolare perché quelli che pensavano di stare bene e adesso stanno male cioè i tedeschi non si fidavano di quelli che pensavano che stessero male e adesso stanno peggio di prima ma relativamente bene cioè gli italiani il fatto che dei paesi competano fra loro in un clima di reciproca sfiducia è evidentemente non è un buon viatico per un progetto che si basa sul fatto che questi paesi si stringano sempre di più no ever closer union quindi le regole sono un sintomo del problema ma le regole diventano anche una causa del problema perché naturalmente per come sono fatte essendo animate non dalla logica della crescita ma dalla logica della diffidenza è assolutamente ovvio che tendono a essere procicliche e ci sono mille e uno modi in cui possono essere procicliche uno è abbastanza chiaro ormai lo ammettono tutti cioè la le regole di bilancio hanno costretto hanno costretto i governi in recessione a tagliare e quindi a ridurre il sostegno all'economia e quindi hanno ampliato le recessioni banalmente questo è uno ma anche le regole monetarie sono procicliche il fatto che siccome se non si acquistano i titoli del debito in difficoltà salta tutto allora bisogna acquistarli ma se acquisti i suoi devi acquistare anche i miei cioè devi acquistare anche i titoli di chi non è in difficoltà fa sì che quando c'è da fare un intervento banalizzo di creazione di moneta in europa quell'intervento è abnorme si crea una abnorme quantità di moneta con tutti i problemi che che vengono evidenziati da de grau in uno dei suoi ultimi nel suo ultimissimo paper che fra l'altro io non avevo neanche capito bene poi per fortuna i miei lettori me l'hanno spiegato sul blog e quindi è un paper assolutamente centrato ma dietro cosa c'è il non detto da lui è questo cioè che la necessità di mettere una regola anche su quello per fare parti per trattare in modo uguale fatti specie diverse cioè per trattare in modo uguale che vi posso dire portogallo e olanda italia e germania acquistando i titoli di tutti anche di chi non ne ha bisogno fa sì che sia stata stampata una quantità di moneta abnorme quindi l'eccesso di cui lui parla nel suo articolo è molto interessante vi invito a leggerlo è nell'ultimo posto del blog quella roba lì dipende anche quella da una regola quindi le regole diventano causa sono sintomo perché vengono definite perché i paesi non si fidano fra loro e quello è il male europeo sono causa dell'ulteriore male europeo perché accentuano tutte le dinamiche perverse le dinamiche di recessione ma anche le dinamiche di creazione di bolle finanziarie non dimentichiamoci che appunto una crisi finanziaria ovviamente arriverà non è che siamo in fondo la storia non è finita considerando poi che nessuno ne impara le lezioni è evidente che ci saremo da capo quindi punto primo la situazione è molto più grave di come la pensa il pd ma è più grave perché appunto il problema non è questa o quella regola il problema sono le regole quale sarebbe la soluzione ma la soluzione sarebbe molto semplice visto che non ci si fida meno europa recuperare spazi di autonomia decisionale istituzionale dei governi e vinca il migliore ma per qualche strano motivo questa soluzione è particolarmente invisa da caso proprio a quelli che pensano raccontano e fanno raccontare di essere i migliori evidentemente per loro questo sistema tanto inefficiente è una rete di sicurezza e infatti lo è perché è abbastanza facile come dire vincere in un confronto internazionale nel momento in cui se un governo fa qualcosa per la propria le proprie imprese è aiuto di stato e se lo fai tu va bene così no è abbastanza facile vincere così diciamo che a loro piace vincere facile e vabbè questo è il dato quindi la situazione è da un lato molto peggiore dall'altro però la situazione è molto migliore perché ma perché il difetto delle regole precedenti dal punto di vista diciamo tecnico era quello di contenere dei margini di opacità e di indeterminazione e le regole nuove questi margini non li riducono no li amplificano perché allora il margine di opacità di indeterminazione quindi di arbitrio allora prima che vi dica dove è questo margine nelle precedenti e nelle successive vi dico a che cosa serve il margine di opacità e quindi di di arbitrio di indeterminazione serve una cosa molto semplice che è questa nel momento in cui diciamo così le cose cominciano ad andare minimamente storte subentra un negoziato subentra un negoziato politico e chi ha più forza politica la fa valere d'accordo? Vi ho citato il caso degli aiuti di stato perché la Germania ha potuto fare i fondi extra bilancio che sono all'attere del tema aiuti di stato perché la Germania può continuare a sostenere le proprie aziende senza che la Fistager dica nulla? Che è chiaro insomma un commissario genese è chiaramente un ascaro di un governo tedesco questo diciamo così va bene finché il tuo governo ha un rilevante peso la tua economia traina eccetera eccetera è chiaro che tu in un contesto di indeterminatezza riesci a imporre la tua forza e tirare la corda dalla parte tua e questo è un dato quindi vi ho detto a cosa serve politicamente questa indeterminatezza delle regole era stata individuata fin da subito fin da subito fin dai primi anni 90 William Boyter ne aveva parlato cioè regole fisse con applicazione variabile costituiscono un enorme problema perché ovviamente creano un problema di moral azar cioè di comportamento opportunistico o sleale nel senso che se tu sai che la regola non verrà applicata insomma quella cosa che si rimprovera al governo italiano ai governi italiani al paese Italia cioè di fare continuamente condoni eccetera 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 in realtà è proprio la cifra della governance europea siccome le regole sono opache le regole contengono margini di indeterminazione si va sostanzialmente di condono in condono dove fige la legge del più forte sostanzialmente allora adesso un piccolo proprio sintetico approfondimento tecnico del perché erano opache le regole precedenti le regole precedenti erano opache perché la misura di quanto un governo doveva tagliare si basava sul concetto di crescita potenziale dell'economia di potenziale produttivo dell'economia perché questo? Perché quello che nessuno vuole focalizzare ma è molto evidente è che il fine delle regole fiscali era non tenere il debito sotto controllo ma tenere l'inflazione sotto controllo e infatti le regole sono disegnate in modo tale da imporre tagli quando si pensa che la domanda cioè il PIL effettivo, i soldi effettivamente in tasca ai cittadini superi l'offerta potenziale superi il potenziale produttivo perché questo per la legge della domanda e dell'offerta porterebbe i prezzi a crescere il piccolo problema è che tu in realtà non osservi il potenziale produttivo cioè quanto il paese potrebbe produrre se tutti fossero occupati se tutte le macchine fossero in funzione, ben oliate, ben manutenute tu osservi solo il PIL effettivo la domanda a quello che risulta dalla somma dei prodotti concretamente posti in essere dei redditi concretamente percepiti quindi l'altro termine di paragone, l'offerta potenziale è una stima ed è una stima effettuata in modo opaco ed è lì che si giocava il margine di ambiguità regole basate su un concetto che non esiste stimato in un modo che non si capisce ovviamente hanno un potenziale infinito per storture ed abusi le nuove regole non sono molto migliori perché non solo non hanno eliminato il riferimento al potenziale il riferimento al potenziale rimane un po' nascosto fra le righe perché un pochino se ne vergognano ma hanno per di più messo, rovesciato l'approccio dicendo che la valutazione delle politiche di bilancio va fatta su un arco prospettico di sette anni non c'è bisogno di avere come me fatto per tanti anni scenari macroeconomici, previsioni a vari livelli sia di singoli fenomeni economici che dello scenario di intera economia basta un minimo di buonsenso per capire che una previsione a sette anni è un esercizio letterario naturalmente non ha nessunissimo modo di ancorarsi a un ipotetico percorso reale la morale di questa favola è che dal punto di vista dello spazio lasciato dall'apparato regolatorio all'incertezza, all'arbitrio dei rapporti di forze è se possibile ancora maggiore allora la domanda a questo punto non è se le regole nuove ci avvantaggino o ci svantaggino la domanda è se gli attuali rapporti di forza ci avvantaggino o ci svantaggino e mi sembra abbastanza evidente che rispetto al periodo 2011 insomma quando è nato il mio blog quando io e Claudio e Antonio e Marco insomma siamo entrati in questo dibattito l'Italia è arrivata nel modo sbagliato ma nel posto giusto il modo sbagliato è stato quello delle politiche di austerità la svalutazione interna ha imposto oggettivamente delle sofferenze e una distruzione di PIL che la svalutazione esterna mai e poi mai avrebbe imposto la svalutazione esterna intendo quella di una valuta nazionale ma fatto sta che seppure nel modo sbagliato cioè attraverso il taglio dei salari noi siamo arrivati in un posto in cui la nostra economia è come si suol dire competitiva tant'è che questo sta diventando un tema di analisi se ne accorgono perfino adesso noi ne parliamo da circa tre anni di questo sostanzialmente ne parliamo da quando abbiamo dato la fiducia a Draghi che dopo aver fatto fare il lavoro sporco per alcuni anni al PD dopo la nostra breve parentesi arrivava pensando di surfare l'onda della necessaria ripresa data dall'elasticità di qualsiasi sistema economico perché è chiaro che se tu chiudi mezzo paese il PIL cala quando riapri il mezzo paese il PIL cresce e tu puoi raccontare che sei stato molto bravo questo era un pochino il meccanismo però già da allora vi avevo fatto vedere che noi comunque attraverso il percorso nel deserto dell'austerità eravamo arrivati in una posizione di relativo vantaggio competitivo oggi se ne accorse se seguite per esempio Michael Pettis su Twitter che è una persona molto acuta vedrete che oggi dice che c'è tutto un dibattito al nord sul fatto che si sono accorti di stare peggio di noi e allora però le cose cambia cioè è abbastanza divertente che chi ha negoziato delle regole che penalizzavano il paese in un momento in cui il paese era debole se la prenda con chi sta negoziando delle regole rispetto alle quali il paese comunque ha maggiore capacità di gestione perché si trova in una situazione con dei rapporti di forze migliori ora, quindi va tutto bene? no, naturalmente non va tutto bene voi sapete perfettamente come io posso pensarla d'altra parte ve l'ho appena detto cioè le regole sono fondamentalmente anche se non se ne accorge nessuno perché per accorgersene bisogna usare quella competenza non STEM che è la banale logica diciamo aristotelica che molti non sanno che può essere formalizzata e quindi pensano che non sia scienza in realtà può essere formalizzata è scienza un minimo di logica ci fa capire che nel momento in cui tu hai bisogno di regole significa fondamentalmente che tu esprimi una sfiducia verso i tuoi compagni di cordata verso le istituzioni perché devi assisterle con qualcosa quindi questo significa in buona sostanza che come ben sapete per me ma anche per qualcun altro non è che siamo poi così pochi in Italia lo vedremo quanto siamo a giugno una situazione migliore, più razionale più favorevole alla prosperità alla pace fra i popoli è quella in cui ci siamo in Europa meno regole, più democrazia, più politica eccetera eccetera e quindi non va tutto bene ma non va neanche tutto male cioè se le emozioni di sfiducia motivate o meno diventano nei contesti di forza attuali rischiano di diventare così la giornata mondiale dell'ognè-gnè-gnè anche la immagino le domande insomma dei colleghi immagino anche i colleghi che le faranno sono anche quelle insomma delle delle recriminazioni delle recriminazioni inutili il problema delle regole è il problema dell'interesse nazionale non è particolarmente legittimato a intervenire chi fino a pochi anni fa diceva che nel prendere decisioni aveva in mente l'interesse europeo e non quello del paese cioè l'interesse degli altri paesi e non l'interesse del suo dopo affermazioni di questo tipo è abbastanza strano e devo dire anche un po' triste che chi le ha fatte non sia stato totalmente cancellato dallo scenario politico triste aggiungo anomalo perché in altri paesi è successo è successo in Grecia è successo in Olanda è successo in Francia è successo nei paesi più disparati paesi grandi paesi piccoli paesi del sud paesi del nord l'unico paese in cui noi continuiamo a portarci dietro questa colossale liability che è diciamo così un partito di quella social democrazia subalterna obbediente è il nostro e oggi facendo il nostro dovere di parlamentari andiamo ad ascoltare quello che ha da dire quello che avevo da dirvi io ve l'ho detto e quindi al prossimo stop spengo e vi lascio alle vostre occupazioni e vi lascio qui è qui è che è